E' uno che ci ha citato, e' uno che ci ha compiato. Senza citarvi? Senza citarvi? Si, si, si. E' un po' di dati, però non lo fanno, e non ci ha citato. Computer, come siete messi? Avete un computer, avete un qualcosa di simile? Aggregatevi in due, tre, ok. Allora, ok, non fa niente. Adesso, no, no, ma non ci fa niente. Avete Excel e o LibreOffice? Ok. Tu sei Gianluca, si, ok. Quindi, adesso però non mi... Tu ti chiami Simone. Ti vuoi mettere con Gianluca? Voi che siete in seconda fila, potete guardarci insieme. Allora, siamo al momento topico. Siamo sta roba... Come qua? Oddio, adesso non funziona niente. Siamo... No. Il momento topico... Allora, allora, l'altra volta, per chi c'era? Non so chi c'era. Per chi c'era? Io però qua non c'è da niente. Avete guardato i dati? Avete guardato i dati? No, non ti preoccupare, adesso facciamo il locale. Avete guardato i dati, per chi c'era, di Open Cohesione. Le infrastrutture, mi pare che siano tutte le infrastrutture della Puglia. Open Cohesione, progetti europei, sono progetti finanziati con fondi da comunità europea per il riequilibrio, diciamo, di certi valori territoriali. Quindi, diciamo, le regioni più svantaggiate vengono, diciamo così, aiutate a finanziare dei progetti che, adesso lo sto dicendo veramente in maniera molto casarecce, perché questi, diciamo, progetti possono poi portare questi territori a riallinearsi con i territori più avanzati nello stesso stato. Tra questi progetti che ci sono su opencoesione.it, www.opencoesione.it Può conoscere tutti questo sito? Chi non lo conosce? www.opencoesione.it Allora, facciamo così. E questo qui, 709.000 progetti in Italia finanziati dalla comunità europea per un totale di circa 100 miliardi di euro, un sesto del bilancio dello Stato. L'altra volta, per chi c'era, vi siete concentrati sui dati che riguardano le infrastrutture in Puglia. Quindi avete scaricato, insomma, comunque sono stati scaricati da qui dei dati e alla fine del lavoro che ha fatto Andrea, si è arrivati a questo punto qui. Allora, questo è un elenco. Io però, scusate, ma non ci vedo quasi nulla, quindi mi devo girare. Questa è un elenco di questi progetti. Posso stare in piedi? Proviamo? Ok. Sì. Quindi, ci dovrebbero essere circa 3.000 progetti in tutta la regione Puglia finanziati all'Unione Europea riguardanti il tema delle infrastrutture. Qui a Bari, per esempio, c'è, credo, l'ampliamento dell'aeroporto, o comunque dei progetti legati all'aeroporto. Una cosa incredibile, perché francamente, anche se ci mettessimo un minuto per leggere una singola riga, tipo sviluppo, competitività, aiuti, eccetera, vediamo un po' come è fatta una di queste righe. Vedete, qui ci sono i finanziamenti. Ecco. Soggetti attuatori, soggetti programmatori, enti, territori. Anche se ci mettiamo un minuto a leggere ciascuna di queste righe, sono 3.032 progetti, ok? Quindi, banalmente. Qual è la moltiplicazione? Allora, un minuto per riga? Per, in 60 minuti, no, scusate, un minuto per riga. 50 ore, giusto? No, 50 minuti? No. 50 righe, un minuto per riga, sono 50 minuti. Ah, ok. Un minuto per riga. Quante righe sono? In 60 minuti, 50 progetti. Quanti progetti sono? 3.032, aspetta un attimo. 3.032, sì, scusate, un attimo di rincoglionimento. Quindi, 3.032 diviso 60, giusto? Mai fatto confondere. 50 ore. 50 ore, ok. Quindi, un minuto per riga, bisogna, ci voglio, 50 ore per leggere quella cosa. Che è questo foglio qui. Ok? In cui c'è dentro di tutto, la pretella ferroviaria, progetti dei lavori di ammaternamento, raddoppio, bai, cioè c'è anche roba, eh? Magari della quale... C'è di tutto. Fra l'altro, anche semplicemente concentrandoci su quanti soldi sono stati stanziati, eh, qui si tratta di un sacco di soldi, eh? In questo caso, per esempio, solo nel primo progetto ci sono 130 milioni di euro. Cioè, di fronte a questi dati, che 3.032 progetti sono pochissimi rispetto ai 709.000 totali, bisogna usare, bisogna avere delle competenze, diciamo, anche basilari, però per poterli consultare con strumenti in grado di leggerli rapidamente, altrimenti chi se li legge? Cioè, qui non sono 100 pagine di un libro, ecco. Sono 3.000 righe, che già così, insomma, uno si rimbambisce un po'. Quindi, la prima cosa da fare, per cui è necessario che i dati siano rilasciati in un formato machine-readable, cioè che un programma come questo, che è l'equivalente di LibreOffice, possa leggere, la prima cosa da fare è provare a, appunto, capire se con LibreOffice Calc o con Excel, oppure in questo caso con Google Drive, questi dati sono leggibili. Per essere leggibili i dati, diciamo, hanno bisogno di alcune caratteristiche, diciamo così, devono essere puliti fondamentalmente, cioè, allora, devono essere in un formato che possa essere letto da questi software, software, quindi, minimo Excel, poi c'è il CSV, e poi da lì in poi CSV, quindi comma separated value, oppure TSV, che è tab separated value, o comunque formati che abbiano, ODS, insomma, che siano formati tabellari. No, in modo che questi 3.000 progetti ce li ho in una grande tabella, che se noi stampassimo sarebbe grande, forse coprirebbe tutte le pareti di tutta questa stanza, ma anche di più, forse, perché è questo spazio per 3.000. e la prima cosa che devo fare, una volta che so che i dati ci arrivano in questo modo, devo capire come sono organizzati. Voi, per esempio, vedete che qui ci sono, c'è una prima riga in cui ci sono scritte delle cose che sono completamente diverse da quelle che ci sono scritte dalla seconda alle successive. Queste sono le intestazioni, no? Sapete tutti cosa sono le intestazioni? Sono i nomi, diciamo, con cui ciascuna di queste colonne viene chiamata. Per esempio, qui abbiamo il codice locale progetto, che è un codice che in qualsiasi momento permette a chi consulta questi dati e ha le fonti opportune di risalire a tutto il progetto che è stato presentato. Cioè, questo numero qui, 1, pufe, 5, eccetera, è scritto nel documento che è stato controllato a suo tempo, quando è stato proposto il progetto dell'adeguamento ferroviario dell'area metropolitana nord-barese. Di sicuro, questo elemento vale per tutti. Sappiamo, diciamo, che nella prima colonna, nella colonna A, ci sono solo questi dati. Quindi ciascuna di queste righe indica il codice del singolo progetto per 30.032 progetti. Ok? Questo è, possiamo saltarlo, è quasi un doppione, comunque è una roba simile, diciamo, il codice unico del progetto. Tipo il codice fiscale del progetto, immaginiamoci, no? Un identificativo unico. Questo, per esempio, è il titolo del progetto. Cosa sono questi progetti? Sviluppo, adeguamento, raddoppio, raddoppio, benessere e salute, eccetera. Quindi sono i singoli titoli dei progetti che sono stati presentati. In questo caso, invece, abbiamo il tema sintetico. Quindi c'è stato qualcuno, che è meno male che c'è stato, che ha descritto in una colonna ciascun progetto di che cosa si occupa, si occuperà. Probabilmente sono gli stessi proponenti che hanno dovuto compilare un campo nella progettazione per dire faremo questo, questo e quest'altro. Stesso discorso poi successivamente sulla parte che riguarda i finanziamenti. Finanziamento privato, il finanziamento totale pubblico, totale pagamenti, dps inizio data effettiva, quindi diciamo, allora, ogni progetto è identificato su una riga. Chi viene dall'ambiente dello sviluppo sa benissimo, chi è uno sviluppo da lo sa benissimo che questo è un record. Tutto internet si basa su questo fondamentalmente, no? Su enormissimi, diciamo, database che contengono tutti questi valori all'interno di singole righe, che poi vengono incastrate. Quindi ogni progetto equivale a una riga. Quindi io, diciamo, giornalisticamente direi, per me già c'è il primo passaggio. Questi progetti non sono elencati su Word, sono messi su Excel. Ciascuna riga, poi, è divisa in singole colonne. Perché facciamo finta di non vedere quello che c'è dalla riga 3 in poi, ma concentriamoci sulla 2. Sappiamo che il progetto sviluppo competitività ha tutta una serie di valori. Il codice locale, il cupo che dovrebbe avere, qua non c'è, però facciamo finta che ci sia, il tema sintetico, il finanziamento pubblico. Sono tutti valori riferiti allo stesso progetto. Allora, immaginandoci uno scenario tipo battaglia navale, capovolgiamo completamente l'ordine, cioè il punto d'osservazione. Ognuna di queste colonne, dal secondo progetto fino alla fine, per esempio la colonna DPS tema sintetico, bene o male ha elementi che spesso coincidono, perché sono descrizioni di massima del tema sintetico del singolo progetto. Quindi, soppressione, PL, miglioramento della sicurezza, è un progetto che riguarda come tema sintetico il tema, diciamo, trasporti e infrastrutture a rete. Ci sono quelli sull'inclusione sociale, sul rafforzamento della capacità dell'APA, e via dicendo. Stesso discorso per il pubblico, no? Il finanziamento totale pubblico. In questa colonna vediamo che, casualmente, compaiono solo cifre. Ciascuna di queste cifre corrisponde alla quantità di danaro che viene assegnata a questo progetto. Siccome avviene questa meravigliosa casualità, a noi magari viene voglia anche di contarli questi dati, no? Quindi, su 3.000 e passa progetti. Se noi volessimo vedere quanti progetti ci sono per trasporti e infrastrutture, quanti per istruzione, quanti per attrazione culturale, quanti per ambiente e proiezioni energetiche, cosa dobbiamo fare? Una tabella, pivò. No. Quindi noi gli dobbiamo dire. Sulla base dei valori che hai in questa colonna, dei temi sintetici, contami quanti progetti ci sono per trasporti, quanti per ambiente e quanti per inclusione sociale. Quindi intanto già abbiamo stabilito che cosa dobbiamo dire al programma. È chiaro fin qui? Mi sono spiegato male? Ma è chiaro le condizioni di battaglia navale ti ha spostato? Beh, tu alla battaglia navale come funziona? La battaglia navale funziona che tu sistemi le navi all'interno di una roba a quadretti in cui ci sono delle lettere e un elenco di numeri. Quindi io ti dico B4, se tu hai una nave lì, è colpito e affondato. Allora, Excel o comunque l'applicazione di calcolo, in realtà funziona in maniera abbastanza analoga. Cioè, tu come fai a dirgli di fare una cosa in un certo posto? Perché gli dai proprio queste coordinate qui. Gli dici guarda se nella colonna B, magari non proprio B4, guarda se nella colonna B ci sono questi valori che li puoi per esempio filtrare. Somma tutti i valori della colonna C, se sono numeri. Conta tutti quelli della colonna D, come gli stiamo dicendo noi. Quindi io adesso, cioè, in battaglia navale io ti colpisco soltanto la barchetta. Qui invece gli voglio dire di fare non solo B4, ma tutta la linea. È come se io bombardasse tutta quella linea. Dicessi, fai una roba qua, esegui un ciclo. Guarda come il maestro Cimarelli sorride. Come si fa? Si fa con una tabella piova. È una cosa banalissima. Io all'inizio non riuscivo a capire questa roba della tabella piova. Dicevo, ma come? Cioè, nel senso che è un mio limite, quello della tabella piova. Allora, lo faccio al volo. La battaglia navale. Lo faccio al volo. No, no, perché tu hai la battaglia navale. Me l'ha proprio chiarito, credo. Sì? Ah sì. Io la faccio al volo qua, banalmente. Poi lo rifacciamo. D'altronde, sì. Faccio corna sperando di non fare una brutta fine. Poi l'hanno ammazzato la fine. Mentre sono... Allora, io lo faccio banalmente, banalmente da Google Spreadsheet. E poi lo facciamo con i vostri... Intanto aprite voi Excel, OpenOffice, Calc. Non ti preoccupare, vai offline. Io... Napo, una delle prime cose che mi disse, prova sempre a lavorare offline, se puoi, che sennò sei attaccato. Guardate un attimo come faccio? Sì. Ok. Cosa abbiamo detto? Che gli dobbiamo chiedere quanti sono questi, ok? Quanti sono i trasporti, quanti i progetti di ambiente, quanti di inclusione, eccetera. Banalissimo. Si va sul pulsantino che si chiama Dati, generalmente c'è in tutte le applicazioni. Gli strumenti per fare le tabelle PVO ci sono in tutti i programmi di calcolo. Come Excel, come LibreOffice Calc, come Google Spreadsheet, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso lo troviamo qui. Negli altri bisogna vedere dove si trova. Sul LibreOffice si trova in una posizione analoga, che adesso vediamo. Su Excel, siccome questi di Microsoft ci avevano prurito, l'hanno cambiata, sta cosa, e l'hanno messa da un'altra parte. Peggio per loro. Anche se Excel si dice che sia uno dei programmi più, forse il migliore, insomma. Comunque, io gli chiedo di fare un report con una tabella PVO, no? Ok? In questo caso lo faccio da qui. Sugli altri software bisogna cercare la scritta PVO, PVO, dove sta? Vediamo che succede. Lui mi dice cosa vuoi fare nelle righe, cosa vuoi fare nelle colonne, su quali valori vuoi lavorare, e come li vuoi filtrare. L'ultimo per il momento ce lo dimentichiamo, perché acquisito il primo passaggio, gli altri vengono naturali. Per me è stato così. Io non sono sicuramente un genio, quindi direi che il meccanismo potrebbe essere abbastanza analogo per chiunque. Io sul campo righe gli voglio dire che, cioè, io volevo contare i progetti per tema sintetico, no? Quindi vorrei sapere quanti ambienti, quanti trasporti, quanti innovazioni, quanti inclusioni, ok? Quindi nel campo righe metterò il tema sintetico. Vado? Vediamo che succede. Beh, lui me li mette un po' incasinati, perché, diciamo, le stringhe sono molto lunghe, io allargo la colonna e si scopre che sono anche abbastanza pochi. Quindi tutti i temi che ci sono in quei 3032 progetti sono in realtà semplicemente 13. Ok? Allora, sì, qui funziona in maniera diversa, ecco, nel senso che io per vedere questo pannello da cui posso fare delle operazioni devo stare sempre col mouse sulla prima cella, diciamo così. Se io scendo giù con il mouse lui me la fa scomparire, ma questo è un dettaglio di questo tipo di applicazione. L'importante è comunque gestire questa fase del calcolo in maniera, diciamo, avere idea. Ok, quindi adesso che cosa devo fare? Devo dirgli che in questa colonna lui me li deve contare. Giusto? Quindi, nella colonna A mi ha messo l'elenco dei temi. Nella colonna B mi metterà quanti progetti ci sono per singolo tema. Come faccio? Qualcuno si vuole avventurare tranne Alessio? Io quanti progetti come faccio a sapere quanti progetti ci sono in questo foglio? In totale? No? Quanti progetti ci sono in questo foglio? Esatto. Esatto. Quindi che cosa devo contare? Le righe. Devo contare le righe. È proprio l'uovo di Colombo. Penso che se qualche tempo ci ho messo io per capire questa cosa delle righe. Non sono stato l'unico d'altronde. Ok. Ok. Quindi io gli devo dire di contare le righe. Come faccio a fargli contare le righe? Occhio. Allora io gli devo dire che lui mi deve restituire tanti valori per quanti sono i singoli progetti per tema. Quindi lo metto qui. Non lo metto nella colonna perché sennò cioè questo non è un campo valore. Poi lo usiamo meglio. Però questo non è un campo valore. Le cose che mi interessano sono le righe e i valori. Perché alla fine ci sarà un dataset banale fatto dalla colonna A con l'elenco dei temi e la colonna B con l'elenco con il numero dei progetti per tema. Quindi la colonna A è fatta con questo campo qui. Raggruppa in base a tema sintetico. La colonna B sarà fatta con il numero di valori che gli dico io. Quindi aggiungi campo cosa devo aggiungere? Per esempio posso aggiungere anche tema sintetico. In realtà io so che devo contare le righe no? Quindi posso aggiungerne uno qualsiasi in realtà. Non è necessario mettere tema sintetico però siccome io lo so già mi viene comodo lo aggiungo qua. Lui mi prevede un suo ragionamento mi dice che sta facendo la somma. Sì. Ok. Sono sicura che in tutte le 3032 righe ci sia un valore giusto? Non in tutte le 3032 righe ma in tutte le 3032 righe della colonna che mi interessa. Io sto lavorando su una colonna specifica che è questa. Ok. E voglio sapere quante volte banalmente lui ha scritto in questa colonna trasporti 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 ambiente inclusione eccetera. Quindi gli devo dire che deve contarmi tutte le volte che ha scritto questo. Questo è il punto fondamentale. Se io questo ragionamento lo facci su un'altra colonna tipo questa dove ci sono dei campi vuoti la situazione si compliegherebbe ma lasciamola perdere perché è una complessità che ci arrivi dopo. Prima devi arrivare al punto iniziale se capisci bene il punto iniziale poi puoi fare quello che vuoi. Sì però non ho capito perché posso aggiungere una qualsiasi colonna cioè se io ho una colonna in cui ci sono dei campi vuoti Perché? Questa è una buona domanda. Questo non ho capito. Perché puoi aggiungere perché i campi possono essere vuoti tipo mettiamo E2 no cos'è E74 è vuoto però il fatto che il campo sia vuoto non significa che non ci sia. Anche questo progetto il numero 74 raddoppio della tratta ruvo corato ha un campo E74 il fatto che all'interno non ci sia un valore in questa fase non me ne frega niente per lui è null e qui si entra nella metafisica dei dati che io non capirò mai però lui comunque lo conta cioè se io gli dico di contare quella roba lì lui la conta come nullo ma lo sta contando quindi io gli posso dire di contare questo di contare questo io ho interesse alla fine che lui conti le righe fondamentalmente quindi ogni riga ha una serie di colonne diciamo quindi tutte le colonne popolano le singole righe ok? a prescindere che dentro ci sia scritto qualcosa o meno questo è il punto fondamentalmente quindi io banalmente siccome sono sicuro che mi interessa sapere quanti progetti ci sono per tema sintetico gli dico di contare quante volte si ripete la parola tema sintetico se c'è un problema me lo dirà lui perché mi dirà su 3032 ci sono un tot un tot un tot un tot poi occhio che ci sono un po' di cose vuote e io lì ho trovato un errore nei dati tra l'altro cioè un errore una mancanza conta in base a questi temi quante righe ci sono io ho inserito qui banalmente quindi ho fatto aggiungi campo tema sintetico lui di base mi prevede la somma che è una delle banali operazioni che si fanno io invece gli dico che deve soltanto contarle l'operazione che bisogna selezionare è su in questo caso su Google Spreadsheet è conta su LibreOffice è count cioè min, max eccetera su Excel è conta qual è? queste vedi che gli scienziati gli scienziati no scherzi tu hai una formazione scientifica eh so più avanti c'è poco da fare mi pare ti risolvono i problemi non eri sicuro della risposta che hai dato? non mi sembrava un problema ecco quindi magari non te lo dicono nemmeno perché lo danno per scontato comunque in sostanza qual è la cosa che lui dice in questa in questi 3.000 passa progetti ci sono 30 cos'è 24 per l'agenda digitale 456 per l'ambiente 345 per la trazione culturale eccetera lui qua sta questi numeri sono semplicemente il conto delle singole righe ok in ciascuna di queste righe lui ha identificato questo label questa stringa di testo cioè questa frase banalmente per non essere troppo nerd insomma attrazione culturale naturale e turistica 345 volte come l'ha fatto? semplicemente perché io gli ho detto metti qui l'elenco dei temi e qui contali punto quindi sempre temi conta ora non è sempre conta qui è conta perché questi gli è girato deve chiamarlo conta su libro office calc si chiama count count su questo c'è un particolare vai ah vabbè questo è un piccolo dettaglio cioè sia count count a oppure count oppure count unique si questo perché count a conta proprio le celle indipendenzialmente da quello che c'è dentro count se non sbaglio conta solo le celle in cui ci sono dei numeri mentre count unique li conta solo una volta sola cioè se lui vede tante celle in cui c'è sempre lo stesso elemento dentro lo stesso valore lui lo conta una volta sola infatti se adesso qua mettiamo count unique dovrebbe darti tutti uno perché ovviamente se fai count unique serve sulla stessa colonna può servire nel senso se tu hai un dataset con record ridondanti il che significa errore di ortografia base cioè non è possibile che esistano due record uguali in un database è un errore enorme mi correggo due righe uguali non possono esistere se esistono è un problema tu fai questo giochino qui utilizzi per esempio questo count unique unique per esempio per esempio quindi generato da un errore oppure l'errore potrebbe essere il fatto che due cose diverse sono state chiamate allo stesso modo con oggetti di questo tipo con un strumentino di questo tipo tipo count unique lui ti permette di sapere esatto sì anche così cioè tu dici se non c'è la colonna categoria lui ti può calcolare gli unici sulla base di alcuni potrebbe anche essere questo comunque diciamo che a noi intanto siccome siamo base forse me lo sono persa prima quando tu hai schiacciato su dati hai fatto report tabella pivot sì l'hai fatto cliccando su una colonna specifica perché ti interessava quella oppure basta cliccare in un punto questa è una bella domanda diciamo se tu vuoi fare una tabella pivot quindi fare un calcolo su questi dati su tutti i dati non selezioni nulla quindi io non ho selezionato nulla faccio tabella pivot lui mi presenta questa cosina qui e quando gli dico aggiungerì che lui me li considera tutti è chiaro? non seleziono nulla clicco tabella pivot e lui mi fa fare calcoli su tutto ok? se io invece infatti qui mi dice l'intervallo ecco guardate qua mi dice qual è l'intervallo vabbè da A1 a M5 comunque se io invece per rispondere alla tua domanda gli dico cioè prima di cliccare su tabella pivot seleziono questo per dire dati tabella pivot arrivo qua e lui mi fa selezionare mi fa mi fa fare operazioni solo sul progetto ma comunque anche questo è un dettaglio nel senso io utilizzerò uno strumento diciamo che limita la mia azione nel momento in cui ho bisogno di limitare la mia azione quindi in questo caso me ne posso anche fregare perché diciamo per come si lavora abitualmente una decina di colonne e 3000 righe è una roba semplice cioè chiaramente se tu hai 100 colonne e 50.000 righe magari ti viene molto utile rimitare no? se no quando apri qua anche banalmente per un fatto di usabilità apri qua ti compare di tutto quindi vabbè questo comunque solo per chiarire questo aspetto diciamo così l'importante è capire diciamo il passaggio che c'è tra questo elenco enorme di dati che hanno una serie di valori diciamo ciascuno di essi è caratterizzato dal tema dal finanziamento insomma da queste colonne ognuna di queste colonne attribuisce un valore in più al singolo record e sapere qual è la cosa che possiamo fare attraverso questa ehm guardando questi dati per esempio contarli vieni dimmi adesso vieni lo rifai tu vai allora se per esempio io oltre alle due colonne di tema sintetico quanto dei progetti nell'altra posso aggiungere per esempio quanti soldi sono stati spesi per ciascun tema sintetico vuoi provare a farlo? proviamo si può fare però prima vieni qui ti metti il microfono e fai tu questa del tema sintetico io adesso la cancello tanto il tempo ce l'abbiamo abbiamo solo questa cosa della diretta ci sarà Luigi Regi ciao Luigi che ci guarda da qualche parte dell'Italia basta l'ho anche cancellata ok c'è anche il microfono quindi ok allora quindi che cosa qual è il nostro obiettivo? allora dobbiamo rifare quello che hai fatto tu no dobbiamo decidere cosa fare con questi dati sappiamo che allora io vorrei sapere di quanto è stato speso rispettivamente per trasporti di infrastrutture piuttosto che inclusione sociale eccetera ok quindi quanti soldi? io prima li conterei perché sulla parte dei diciamo del valore economico ti devo dire devo dire una cosa dopo ecco però intanto farei un conteggio quindi rifarei esattamente quello che ho fatto prima ok vai quindi devo selezionare qualche valore qualche colonna eh selezioniamo questo a suo punto giusto? volendo sì non è giusto? non è indispensabile diciamo posso anche non selezionare niente? quando fai la tabella pivot lui ti fa fare operazioni su tutto vabbè allora non seleziono niente come si fa? basta che clicchi su una sola cella lui deseleziona tutto ok quindi devo andare su in questo caso banalmente vai su dove è pivot? eccola lì ok qui metto nelle righe il dps tema sintatico giusto? perché vuoi contare quante volte è ripetuta questa cosa? quanti progetti ci sono per ogni tema voglio contare prima quindi la prima nelle righe metto questi ok larga un po' la colonna perché i ragazzi del si anche un po' di più vedi perché così te la fai entrare ah quanti sono? 13 13 eh è in questa colonna no è nei valori giusto? sì il filtro però l'ignoralo dov'è il filtro? che è l'ultimo no? ah ok il filtro a che serve? quando questi dati invece di essere così sono molti di più col filtro restringono il caso quindi qua invece metto dobbiamo di nuovo contarli quindi qui in teoria posso mettere solo contarli no? quindi mettiamo posso mettere di nuovo lo stesso? sì perché puoi mettere di nuovo lo stesso? perché devo solo contare la ricorrenza cioè devo contare praticamente le righe sì è quella questa è l'operazione basilare però è anche più devo mettere in questo caso esatto e ho di nuovo questo ok missione compiuta e però come faccio a sapere quanti soldi per ognuno di questi? ok che cosa sono i soldi? allora devo andare a vedere qua i soldi che cosa sono in genere? allora vorrei che tipo di dato è? è un dato numerico esatto quindi bisogna vedere intanto se lui capisce che quello è una colonna di numeri perché se lui non lo capisce se quella colonna di numeri non è machine readable lui non può fare operazione su quella colonna di numeri quindi caro google drive lo sai che sono numeri? per esempio la colonna finanziamento totale pubblico questa devo vedere no che devo fare? in realtà te lo posso già dire io per un fatto ma semplicemente è un fatto di visualizzazione quando ci sono numeri lui li allinea a destra ah ok mentre se tu per esempio ti faccio vedere una cosa guarda generalmente quando lui non capisce che sono numeri ma ci mette tipo niente premuto se lui non capisce che sono numeri di solito ci mette tipo un puntino da un come si chiama? è un apice davanti per cui tu vedi come se fosse un numero però in realtà se guardi qui c'è quell'apicetto che gli sta dicendo che non è un numero però siccome noi ce l'abbiamo già pronto perché o Andrea l'altra volta o i dati come sono sono già puliti non capisco perché ci dobbiamo complicare la vita era solo per capire cioè se lui sa che sono i numeri perché se tu vuoi sapere quanti soldi sono destinati per tema cosa devi fare? tabella Pivo? eh devo sommare giusto? no eh non lo so provaci allora è sempre nel campo valori? eh prova questo dove l'hai messo? il primo dove l'hai messo diciamo il conteggio del DPS tema sintetico dove l'hai messo? nel campo valori ah è pure qua e quindi qua perché no? in questo caso tu vuoi sapere la somma dei finanziamenti? il finanziamento totale pubblico perché che era quella colonna che avevamo visto eh sì perché il totale pagamenti sono i pagamenti effettuati per progetti sì e poi era incompleta però insomma uno può contare pure e poi in teoria per alcuni c'è anche finanziamento privato però per pochi ma in teoria possiamo contarli anche tutti ah quindi devo ah già fa capisce mi capisce ti capisce? mi capisce beh non ha però spirito critico e non ha il senso dell'ironia quindi questa è una delle cose che si dice beh in realtà perché l'ha già fatto? perché tu hai selezionato una colonna giusta numero uno una colonna che era già popolata di numeri quindi era già pulita cioè lui già capiva che quelli erano numeri che erano formattati in un certo modo che è numerazione anglosassone perché i decimali sono indicati con il punto quindi per lui sono variabili omogenee sono numeri e lui li può sommare banalmente sono numeri real cioè decimali lui li riconosce e dice beh che figata proviamo un po' a fare la somma numero tre perché l'operazione che lui ha in default su questo strumento che è google spreadsheet è quello della somma se tu questa operazione la ripeti su library office puoi magari avere altre difficoltà dovute allo strumento perché è fatto in un'altra maniera cioè la logica è la stessa qui il tema sintetico e qui i valori però i pulsantini si organizzano in una maniera differente eccetera diciamo che per me che ho imparato diciamo da zero google spreadsheet ti facilita molto questo tipo di attività perché ti mette a lato qui tutto quello che stai facendo lo puoi modificare diciamo in tempo reale ecco no io posso dirgli per esempio tipo facciamo così come faccio a sapere se tutti questi progetti contati nel tema sintetico sono stati tutti finanziati dal pubblico non ho capito cioè se sono stati pagati io ho io ho 3031 progetti 3031 progetti leviamo sti totali 3031 aboliamo il totale proprio come concetto proprio come concetto totale lo calcola lui vedete io ho 3031 progetti dove so che compaiono queste scritte qui cioè la categoria il tema sintetico no? ma siamo sicuri che perlomeno in questo database tutti questi progetti siano finanziati? cioè ci sia il valore finanziamento totale pubblico ecco ok quindi invece di sommare li conto li conto ah ok eh sì se i numeri coincidono vuol dire che sono tutti finanziati per esempio se i numeri non coincidono vuol dire che c'è una discrepanza può esserci un errore scusa scusa può esserci un errore nel dataset perché magari c'è stanno pensando una domanda non lo so si distraggono e disturbano il docento può esserci un errore nel dataset però può anche essere che ci sia un progetto non finanziato se per esempio noi ora li associamo al finanziamento quello che dicevamo prima che non c'è per tutti non ci saranno qual era il campo che non c'era per tutti? adesso lo individuiamo aspetta un attimo voi che stavate dicendo? no dove si separate? noi non condividi su count A e dice cioè count A conta tutte le righe quindi è inevitabile che siano uguali tutte le due colonne se vuoi vedere se ci sono delle celle count no non quella quella sotto count unic no ah sì no count quello esatto che conta i numeri sì sì ma non in quel campo nell'altro no 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 è vero sotto sul finanziamento totale vabbè qual è la città? dunque count A conta tutto quindi è ovvio che siano uguali le colonne perché il conto è 7 e 3 è stesse cose invece a te interessa questo interessa cercare di vedere delle righe in cui la cella è vuota o magari c'è una stringa sì vabbè potrei fare anche una funzione dove è maggiore di 0 fammela vedere invece con count lui conta solo i numeri quindi eventualmente se per esempio in un'agenda digitale ci fosse una riga senza l'importo senza il finanziamento totale quindi con la cella vuota lui lì ti metterebbe 23 perché contiene 23 numeri poi il 24esimo è una cella vuota non è un numero e quindi lui lo ignora e allora vedresti la discrepanza ad esempio adesso ci stiamo addentrando troppo avanti secondo me come operazioni perché si rischia poi di visualizzare no cioè visualizzare a questo punto è banale copia incolla su data wrapper hai fatto punto cioè proprio così non ci credi? 1 conta fino a 30 copia no siccome poi dice questo dice cose siamo arrivati a 10 secondi copia incolla in realtà mancano le intestazioni e adesso perdo del tempo in colla su data wrapper aggiungo solo l'intestazione qui i dati sono puliti visualizzate tutto lui ho fatto solo copia e incolla di quei dati lì se poi voglio comunque non è sbagliata solo la traduzione che faccio io di notte anche la loro è tutta sbagliata in inglese automaticalli sort bars vedi ti fa vedere già lui così e no adesso poi la facciamo meglio ma diciamo qui su questa cosa qui ci addentriamo sul su una cosa un po' complicata allora noi vogliamo contare quanti hanno e quanti non hanno il finanziamento privato quindi dobbiamo fare prego sempre lì tutto da lì dipende c'è tutto quasi tutto molta roba dipende ok quindi intanto non guardare quello che lui ha messo tu sai che intanto hai fatto il finanziamento privato e ora cosa dobbiamo contare cosa dobbiamo fare dobbiamo sommare dobbiamo chi ce l'ha e chi non ce l'ha e quindi anche sulla base di quello che dicevamo prima esatto i privati non ci hanno messo una lira hai visto comunque abbiamo imparato che i numeri a sinistra vanno male i soldi i soldi a sinistra il soldo è sempre stato il quadro devo cambiare il formato del non è così semplice comunque no ha detto lui che costituisci in quella colonna poi sostituisci con lui ha detto un'altra cosa rispetto a quello che sta dicendo lei no il problema in questo caso qui è nel parsing no cioè no il parsing è l'interpretazione diciamo è l'analisi psicologica che lui fa della roba che tu gli metti dentro lui non l'ha capita questa cosa perché si vede che sarà sfuggito a me quando ho importato i dati è sfuggito a me quando ho importato i dati perché lui in questo momento è impostato per avere un sistema di numerazione anglosassone e noi invece gli stiamo dando dei dati italiani quindi diciamo per tornare per tenere pulito tutto bisognerebbe cancellare tutta questa roba ripetere da capo l'operazione importare il dataset e dirgli guarda in quella colonna lì ci sono i numeri in questo modo sì lì bisogna starci attenti io di solito prima con Excel provavo sempre sì ok lui comunque dava una roba eccetera e poi chiaramente mi sono reso conto che un attimino un paio di cose glielo devi dire anche perché quelli sono diciamo così almeno in parte i metadati in parte sono metadati nel momento in cui tu gli dici guarda qui c'è un numero fatto così così quello è un metadato che tu gli stai dando ecco cioè non c'è scritto che quello è il finanziamento privato che sarebbe il concetto diciamo più completo di metadato ma gli stai dando già il formato no cioè quando tu costruisci un database gli devi dire alla colonna 1 c'è sta roba nomi fatti di una certa lunghezza eccetera la colonna 2 ci sono numeri decimali di questa cosa quindi glielo devi spiegare prima quindi non li possiamo neanche sommare perché lui non sa che sono numeri cioè per lui questi li vede come vede questi sono stringhe fondamentalmente cioè non c'è grande differenza per lui lui ha un'anima sì è quello che diceva Alessio vai vai e poi controlla trova piccola e trova se si dice con punto se togli cerchi tutti togli aspetta 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 si perché tutto ciò avviene su un server di google in scandinavia probabilmente o forse tipo in cina dove ci sono quelli quindi i numeri a destra e cosa buona e giusta potremmo discutere e sono solo in ambienti preventivi dei rischi aspetta aspetta perché stai toccando un tema interessante dove sono questi finanziamenti privati però così non si levisce niente bisogna ordinarli come si ordinano no 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 prova sulle righe per ordinarli stai lavorando sulle righe ordinamento delle righe no quindi vai nel campo righe e gli dici ordina per da giù vabbè o crescente o decrescente che crescente o decrescente cioè dal più grande al più piccolo o dal più piccolo al più grande no questo è lascia lascia perdere ma concentra di no no questo lascia perdere tu gli hai dato un comando diciamo ma lascia lascia stare tanti valori sono giusti lui comunque rifà il calcolo non è che ordina per tu che cosa come li vuoi ordinare in base al al conteggio ok ok decrescente hai già messo z a sarebbe dai quindi sarebbe da quello che ha più finanziamenti privati a quello che ne ha meno quindi già qui se tu dici ma vediamo un po' costi privati su che cosa hanno investito in Puglia sei passata da 3.032 progetti a 64 tipo i privati in Puglia in progetti europei su che cosa hanno investito e qui non c'era quel modo per far esplodere la singola riga e vedere che cosa quello che è stato aggregato in questo salito qua cioè per vedere i singoli progetti i singoli 49 progetti per vedere i singoli 49 ma lo puoi fare con i filtri fondamentalmente io lo farei con i filtri quali sono i 49 progetti devo tornare sull'altra tabella ma in realtà basterebbe anche ordinare i dati cioè vuoi sapere si non è una cosa da conteggiare diciamo no nel senso fai così ci sono questi 49 no si varie chiamate vabbè ci sono questi 49 no sono pochi ma anche banalmente vai qua li ordini così no perché mi ha messi ah perché sono in cima sono in cima eccoli qua si puoi fare anche un filtro no adesso qua su no se tu vuoi lavorare solo su questi 64 vai qui adesso da qua non mi ricordo comunque i filtri si fanno da non selezionare nulla sì ma non selezionare nulla perché non selezionare nulla perché se no credo che il filtro è proprio pezzo ah sì gli dico vabbè quindi non seleziono nulla gli dico filtra e ti metti le piccette e ti metti togli i vuoti e ti metti qua e c'è una tabella di voto e ti metti cioè allora il discorso fondamentalmente è tutto su filtrare raggruppare sommare conteggiare chiaramente questo è un esperimento abbastanza banale no anche se comunque 3000 no però in realtà posso vederlo anche da qua non so perché stavo andando lì perché sì questo è un esperimento abbastanza banale quindi anche se 3000 sono un po' indicativi insomma io questo l'ho comprato da poco 8 euro e 99 apoggio vabbè poi uno si trova la versione più aggiornata 8 euro e 99 apoggio ti dice come li filtri come li cioè è più sistematico no io ho imparato alcune cose poi chiaramente rispetto al totale penso che forse non sono neanche al 10% delle funzionalità di Excel o comunque di questa applicazione però questo qui te le mette più in maniera sistematica ti fa un riferimento hanno vedi se l'avessi saputo avrei comprato questo che hanno abbassato il prezzo perché per la versione vecchia ultra vecchia nel 2014 ma è tabella di voce è tabella e vabbè questo è perché hanno l'indicizzazione seo un po' autonoma diciamo questi di apoggio se io cerco su google il primo libro che trovo è vecchio comunque eccolo qua mi pare che sia lui eccolo qua sì questo è quello che ho comprato pure qui costa meno a Feltrinelli costa di più vabbè diciamo che questo è un ottimo diciamo contenuto che sistematizza un po' queste cose ecco però è anche vero che questo libro non sono non ho finito ancora tutto però diciamo sono a due terzi tutte le cose che lui ti spiega te le spiega sempre con esercizi pratici quindi analisi dei dati con Excel 2013 apogeo 7.56 euro e te li spiega con degli esempi pratici quindi in realtà avendo degli esempi facendo già degli esempi pratici alcune cose magari ci puoi arrivare già tu e chiaramente lì questo è un libro che ha l'ambizione di essere un picco manuale con cui spiegarti alcune cose quindi è comunque più sistematico quindi è sempre sicuramente meglio di qualcuno che ti spiega come fare una cosa per infatti ho tanti amici che è importuno per chiedere come si fa una cosa che è poi però chiaramente per avere una roba un attimino più sistematica questo qui è più carino proviamo a fare qualche altro conteggio c'è qualche volontario dall'ultima fila Gianluca dai tanto aspetta che però dobbiamo togliere sto filtro dunque disattiva filtro ok c'era qualcosa vai vai buttati ecco notizie e questa è notizia cioè tu l'hai letto tornando a quei due dati non all'esploso al precedente slide questa? sì 49 dovrebbero essere quasi tutti in ACUPI ma scusa ACUPI è un ente quindi sta nella colonna ente no sta nel titolo progetto guarda appunti interventi quello vai a destra? cioè tutto ciò che è idrico non è come si invece soggetto attuatore attenzione quindi possiamo verificarlo ah però quindi posso aggiungere un altro campo verifica quant'è il percentuale qui stai filtrando ok no no ci sono sempre molti modi per fare le stesse cose ok no per aggiungere allora tu vuoi aggiungere questo? sì ok ma intanto dovresti cercare di avere diciamo un'idea complessiva perché ricordi che sempre che lavori su tanti valori no? quindi se sono troppi quando tu gli dai mostrami questa cosa qua magari lui si incasina un attimo quindi tu dovresti comunque avere un'idea complessiva di quanti sono questi soggetti attuatori anche banalmente correndo il foglio fino alla fine guarda un po' se sono tutti qua magari li puoi ordinare quindi vai sulla colonna K ordini il foglio da A alla Z poi anche semplicemente scorrendo velocemente vedi se se sono tanti sembra che sia tra l'altro c'è ecco vabbè qui poi si entra a toccare un altro tema è ciò che sono sporchi perché dunque se torni su su acquedotto gugliese vi oscuro qualcosa se mi metto qua no? è andato dietro vedi ce ne sono alcuni scritti minuscolo altri scritti maiuscolo altri c'hanno SPA tutto puntini senza puntini eccetera quando lui andrà a contare siccome non ha senso dell'ironia lui dirà le stesse cose diverse e ci casca come un cetriolo perché qui la pubblicità che era stata fatta tra le fine era quello di i soggetti attuatori dividenti per bene tra enti e amministrazioni privati l'avevamo puliti su quella quella analina tipologia soggetto nel senso che avevamo accolpato tutti gli enti pubblici sì ho fatto anche la pivò sono tre categorie però sono troppo grandi cioè no sì dico in quella sede avevamo fatto quello quindi per quello si trovava così perché dai fine avevamo fatto con quella colonna e non sull'altra però non è proprio decifrabilissima cosa perché ha la voce privato e sconventi amministrazioni mentre non dovrebbe essere privati il progetto ha come soggetto le aspettate un attimo allargiamo un attimo questo ricordate quelle sono proprietà del progetto non del finanziamento del progetto cioè diciamo che la struttura diciamo di queste cose è un ente sovranazionale un soggetto programmatore tipo il ministero un soggetto attuatore tipo la regione quindi ognuno ha il suo ruolo e se voglio sapere chi è il soggetto finanziatore dunque il soggetto finanziatore chi è? perché non c'è il soggetto privato tu lo trovi se tramite giornalisticamente diciamo il CUP cioè tu ti individui per esempio i progetti che ti interessa approfondire e ti vai a cercare i documenti di questi atti sì oppure banalmente chiami potrebbe essere se è un SPA oppure banalmente potrebbe essere quindi potrebbe essere che ci sono 49 finanziamenti della società acquedotto per rifare oppure banalmente sai che c'è questa situazione qua chiami a quel punto l'assessore non lo so chi è il politico perché comunque adesso è una cosa un po' esterna all'esercizio sì cioè l'acquedotto pugliese è un SPA e quindi società di capitali società per azioni in cui l'azionista è il pubblico è al 100% la regione pubblica che appunto dovrebbe essere un ente pubblico però giuridicamente un ente di diritto privato perché sennò non potrebbe definirsi SPA certo certo quindi c'è un po' di casino di confusione questo è una delle riforme quindi forse la voce privato si riferisce all'SPA che giuridicamente è privata però formalmente è un ente pubblico perché ecco perché formalmente è un ente di diritto privato formalmente è un ente di diritto privato poi che il proprietario sia con proprietà del pubblico dovrebbe essere la legge Bassanini se non sbaglio che ha introdotto questo figure aziendale e forse è l'ente pubblico che finanzia cioè la voce privato si riferisce comunque sempre all'ente pubblico non ad altri ecco perché non c'è la voce privati chi sono i privati ma lì risalendo al codice del progetto poi il privato lo identifica aspetta il microfono una possibile interpretazione è che ACUP essendo un soggetto di diritto privato come SPA cofinanzi quel progetto in genere cofinanziano anche con costi figurativi per esempio con le persone che ci lavorano e quindi vengono valorizzate quella può essere una quota di cofinanziamento e in quel caso figura come finanziamento privato non so se mi sono spiegato cioè è come Finmeccanica se Finmeccanica prende un progetto quindi vince uno di questi progetti Finmeccanica è un ente di diritto privato anche se nel suo azionariato c'è il ministero della difesa o addirittura non so se il governo italiano se tu vuoi verificare questa cosa è l'acquedotto cioè se in particolare questo è l'acquedotto il progetto lo fa come mezzi propri significa ricevo 100 lavoro 120 quindi sto cofinanziando per 20 quello figura come quota di finanziamento privato perché sono acquedotto pugliese ente privato che lavora per 120 e riceve 100 credo non è un ente pubblico quindi in questo caso è il finanziamento pubblico è quello che ricevo dall'attuatura cioè che la QP ha cofinanziato cioè ha messo ci credeva così tanto in questo progetto che non c'è un privato cioè non c'è un altro privato diverso da QP che ha finanziato da benefici quindi sostanzialmente perché altrimenti bisognerebbe vedere il partenariato cioè bisognerebbe vedere quali sono tutti i beneficiari di quel progetto infatti c'è un CUP per ogni beneficiario c'è un CUP di progetto che va al capofila che in quel caso è la QP se ci sono altri soggetti attuatori ricevono un CUP individuale bisognerebbe avere quell'informazione e di dettaglio non so se dal sito questo ci penso sui metadati si sui metadati alcune di queste informazioni si e comunque eventualmente poi siamo abbastanza coinvolti per altre cose in questo progetto quindi volendo non ci mettiamo nulla a metterci in contatto domani per esempio ci dovrebbe essere Luigi Reggi che è una delle persone che lavora al progetto e quindi si può anche chiedere a lui che lui ha una conoscenza più anche perché poi i dati di open collisione sono dei dati molto complessi diciamo per tanto per fare un'idea per dare un'idea direi che ora da quando abbiamo iniziato quelli di open collisione era diciamo il dataset più grande sul quale abbiamo mai lavorato 720.000 record e altri belli grossi insomma cioè io ho dovuto comprare la RAM perché non c'era a fare il computer no ma è normale che sia così e altri progetti grossi anche visti insomma sono tipo da 500.000 300.000 ci sono anche delle cose molto più grandi chiaramente no 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 open collisione è un progetto estremamente complesso noi non saremmo sicuramente stati in grado forse in 20 anni ci dovremmo fare è stato realizzato al DPS mi pare che ci abbia lavorato con Polis insomma comunque vari soggetti è un progetto molto consistente è stato fatto anche in pochissimo tempo e poi è abbastanza completo diciamo i dati sui quali si basa provengono da una banca di dati che è come una piramide al contrario diciamo la base dati complessiva è tipo quelle colonne lì per 10 mi pare che sono 120 colonne circa poi c'è una serie di filtri per cui quindi è possibile che questi dati qui ci siano da qualche parte tipo le partite IVA delle aziende queste cose qui ci sono da qualche parte diciamo più si va avanti nel processo di pubblicazione più viene semplificato il numero di dati che viene pubblicato ma semplicemente per un discorso di diciamo o per discorsi di privacy non si possono pubblicare dei dati per se vi o non la privacy oppure un discorso di facilità nella navigazione solo per questo sono stati filtrati quindi probabilmente alcune delle due domande accedendo ai dati grezzi veri che sono disponibili sul sito del DPS sono domande alle quali si può rispondere in questo caso possiamo però provare a risponderci rispondervi banalmente quindi sapere chi sono questi privati no? non è rialato ci sono c'è danni in conflitto nel movimento dell'atto di Chiesa e la regione Puglia perché non si sa quanto i privati ci guadagnano perché c'è la battaglia per il pubblico qualcuno dice dovete togliere l'SPA e farlo in diritto pubblico però qui non si capisce chi sono i privati la percentuale di margine di profitto di privati se il privato è eccetera eccetera sì questo diciamo bisogna vedere nell'ospedale no è chiaro diciamo vabbè questi sono dati che comunque almeno in parte ti permettono di avere diciamo un po' di trasparenza quindi tu vai qui vedi già che c'è una situazione che magari per esempio io non conoscevo fino a dieci minuti fa non sapevo che c'era questa cosa dell'acquedotto che aveva finanziato no no per vederli meglio io farei la cosa perché se li mettiamo come valori se li mettiamo come valori allora come valori lì non possiamo metterli diciamo nella pivò è giusto Alessio? perché allora l'idea è quella visto che abbiamo visto che ci sono questi 49 questi soggetti diciamo che questi finanziamenti privati l'idea è cercare di capire meglio chi sono questi soggetti privati perlomeno chi sono questi che in qualche modo finanziano si capire meglio questo discorso qua allora la pivò non è un buono strumento per fare questo cioè la pivò ci dice ci restringe il campo su quanti sono i finanziamenti privati ma non ci dà grande possibilità di lavorare su questo perché io come faccio a inserire in una tabella pivò tutti i soggetti privati volete provare a immaginare qualcosa dico qualcosa io beh una cosa che potrei fare sarebbe metterlo nelle colonne no? però dovrei cioè possiamo provare però insomma rischiamo di perché poi i soggetti cioè rischiamo che lui moltiplichi le colonne per me cioè la cosa più semplice è fare il filtro nessuna strada è necessariamente esclusa dall'inizio no? però uno deve anche fare un ragionamento e dire il mio obiettivo è vedere questo qual è la strada più rapida ed efficace per arrivarci magari ci sono altre soluzioni ecco varie valide però se posso provare vai vediamo come fa Alessio cioè se a me interessa solo il buon c'è il mouse c'è anche il mouse hai visto? beh si può intanto aggiungere un altro campo noi cos'è che vogliamo vedere i soggetti qual è quello dove c'era l'acquedotto attuatori occhio che nella prima colonna c'hai tutti i 3000 quindi se fai così così peggio per te esplode? è certo che esplode no poi lo giro ah beh quindi metto prima i soggetti attuatori ok spiega quello che hai fatto allora io adesso ho messo due campi come righe uno è i soggetti attuatori Marconi Gramsci Manzoni Modugno e da qualche parte là in fondo ci sarà anche l'acquedotto per ognuno di questi lui fa un secondo una seconda strutturazione no? è ad albero per ogni soggetto attuatore mi fa la distribuzione dei progetti per tema e quindi so che Marconi ha due robe nell'istruzione è una su e una su energia giusto è una su energia e via così sicuramente resta solo abbiamo detto togliamo mostra totale così diminuiamo almeno la complessità di questa roba aboliamo il mostra totale abolire hanno interesse solo a quale ha detto pogliose ah finalmente possiamo usare il campo quindi è soggetto attuatore il campo in cui filtro tolgo tutto e poi cerco acquedotto attenzione o gli acquedotti ecco perché qui abbiamo il problema vedete come lui lo riconosce come addirittura Marconi come le hanno messi vabbè comunque li riconosce come n soggetti diversi nel senso che i dati diciamo in qualche modo sono stati diciamo così inseriti e vabbè è vero però diciamo io li posso selezionare tutti e tre poi al massimo faccio quello che abbiamo appena tolto aggiungo stampa il tema dai stampa il titolo progetto vediamo che roba è ho sbagliato qua e quindi sappiamo cioè la nostra domanda ha avuto una risposta possiamo anche vederlo da un altro lato cioè girarli è tutto nell'ambiente aspetta quindi lui che cosa ha fatto ha messo davanti il tema sintetico e dopo il soggetto noi vediamo vari soggetti in realtà lo sappiamo che uno solo che è scritto in maniera diversa però lui dice dato il tema sintetico ambiente prevenzione chi sono i soggetti che fanno questa roba questa da bella risponde alla domanda dato il soggetto attuatore che in questo caso sono tre diversi sono tre diversi poi noi sappiamo che sono tre tutte e tre e va bene quali sono i temi in cui agiscono uno solo in realtà sono tutte e tre uguali questi temi sono tutte e tre uguali quindi se lo giriamo ci facciamo la domanda dato il tema quali sono i soggetti attuatori in questo caso il tema sappiamo è uno solo e quindi è molto semplice e contiene in sé tre soggetti attuatori che ne abbiamo preso tutte e tre perché sappiamo che sono lo stesso eccole qua però a noi a questo punto non interessa questa strutturazione fine perché queste sono la stessa cosa scritta in maniera diversa quello che ti interessa è qua sono 85 progetti tutti in ambiente di cui 45 hanno avuto un finanziamento privato il quale finanziamento privato di chi è? no basta questi sono i 45 che hanno avuto finanziamento privato da parte dell'acquedotto ovviamente prima abbiamo visto che erano quanti erano prima in tutto 69 giusto? c'erano 69 in tutto quindi scusa 49 quindi 45 dei 49 che qui non c'è scritto ma ce lo ricordiamo vengono dall'acquedotto nel settore ambiente 99 45 diviso 49 gli altri 4 vai allora il soggetto attuatore è chi fa il progetto non è cioè l'acquedotto pulese non è il finanziatore privato in questo caso perché il soggetto attuatore è il soggetto attuatore quindi noi non sappiamo se effettivamente quel finanziamento è stato dato dall'acquedotto o da qualcun altro giusto? questo però diciamo sono due piani di lettura quello che dici tu riguarda il significato dei dati e quello di cui adesso stiamo parlando in realtà è indipendente da questo discorso qui nel senso che mentre adesso quello che stiamo facendo è far vedere come si gestiscono dei dati se sono stringhe se sono numeri quindi tutto questo discorso che stiamo facendo adesso ha un valore universale se vuoi proprio perché che prescinde dal significato esplicito dei dati dal significato semantico dei dati cioè lì c'è scritto acquedotto da pugliese spa poteva essere scritto anche bla 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 a me non cambia assolutamente nulla il discorso è sempre lo stesso conto delle cose che stanno in determinate categorie e sotto categorie quindi la tua domanda naturalmente è inerente a questo problema specifico e sinceramente dovresti sapere come funzionano i progetti europei cosa vogliono dire ogni colonne eccetera immagino che effettivamente il soggetto attuatore non è quello che poi finanzia non necessariamente è quello che finanzia esatto però diciamo ai fini della tabella pv in realtà non ce ne frega niente quella è l'interpretazione che diamo ai risultati cioè una volta che tu ti rifuola il dato a quel punto cioè avendo un quadro d'insieme a quel punto approfondisci la cosa quindi sai qual è il metadato fai il tuo conteggio in base alle due piste e poi approfondisci la cosa quando ti viene fuori una cosa del genere ma la mia domanda è erano 49 sono 45 gli altri 4 gli altri 4 direi andiamo a filtro facciamo seleziona tutto poi mettiamo vabbè no in realtà possiamo fare seleziona tutto scusa il filtro e ci abbiamo di nuovo tutto allora lui ha rimesso di nuovo tutto vediamo però se nei finanziamenti privati intanto rispondono cioè ci sono ancora quei 4 lì qui abbiamo per ogni tema tutti i soggetti attuatori con il numero di progetti e con il numero di progetti finanziati in qualche modo dai privati ok ovviamente il nostro 45 scusa ordinato per per soggetti per soggetti per soggetti decrescenti per finanziamento privato e crescenti per soggetti attuatori quindi ci sono due ordinamenti ci interessa relativamente quello che possiamo fare qui è questo dunque non ci serve più questo filtro possiamo filtrare siccome a noi ci interessa giusto solo quelli che hanno ricevuto un finanziamento privato giusto? e quindi noi facciamo un filtro sul finanziamento privato e gli diciamo piglia tutto tranne tranne i vuoti o gli zero i vuoti dovrebbero essere gli zero voilà adesso è tutta la strutturazione precisa di quello che volevi dire tu quindi ambiente che c'è nell'ambiente ci sono in tutto 49 progetti scusa 49 progetti finanziati dal privato in qualche modo 45 sono attuati dall'acquedotto 4 sono attuati dalla regione Puglia rispondiamo alla domanda tua questo è nell'ambiente nel rinnovamento urbano e rurale 2 sono attuati dal comune di Sceglia Messapica vabbè c'è una situazione anche lì e questo ce l'hai per ogni per ogni tema naturalmente se ti interessa solo l'ambiente ti pigli solo l'ambiente se vuoi puoi anche filtrarlo qui volendo perché se fai il tema sintetico ti prendi solo l'ambiente piano piano piega quello che stai facendo qui diciamo sono solo 1 2 3 4 temi quindi volendo noi ci interessa solo questo guardiamo solo la prima riga fossero 5.000 di temi potresti filtrarli è un po' complicato quindi posso applicare un altro filtro sul tema in cui ci metto solo noi eravamo interessati abbiamo detto l'ambiente per esempio il tema dell'ambiente e lui mi fa vedere solo questo ok passo dopo passo alla fine abbiamo messo due variabili che definiscono le righe che sono quindi uno è il sottogruppo una delle due variabili cioè allora una variabile raggruppa le altre cioè dato il tema sintetico ambiente elencami sulla colonna B A B C D E conta il numero di righe totali e conta i finanziamenti privati dove c'è la cifra filtrami quindi fammi vedere solo quelli che hanno un valore diverso da zero nel finanziamento privato e fammi vedere solo quelli che hanno l'ambiente come tema insomma una cosa complicata con sei campi con Alessio è sempre così al fine tu perdi un altro 30 secondi lui fa ha trasformato questa tabella a questa tabella ma questo però non è un problema della tabella PV questo è un problema del dataset iniziale cioè non c'è proprio qua quindi diciamo in generale ciò che non c'è e che non si sa non si può sapere da ciò che non si sa cioè si deve aggiungere a priori cioè l'elaborazione dei dati non può dire nulla di più di ciò che i dati già dicono non può inventare informazione non può creare informazione tra l'altro non so in realtà se nel portale perché questi dati sono stati scaricati e già filtrati e puliti durante l'altro workshop che abbiamo fatto quindi non so effettivamente poi su OpenCosione c'è il campo del finanziatore quindi bisogna verificare questo perché sinceramente i siti del DPS secondo me sono più ricchi questo è secondo me su questo dataset è stato filtrato eccetera quindi poi per vedere questo cioè se intendevi questa cosa qui può darsi che su OpenCosione ci sia io ora non lo so sinceramente o sui dati aperti che sono scaricabili dunque l'ultimo filtro era tu avevi messo l'ambiente qui ok dove sta e lì comincia allora chiama vai scusami io vorrei sapere anche questo ah no quello che lo rilasciamo l'ambiente è dall'altra parte ma questo però mi rimanda a quell'altro ma se li chiamo con l'ufficio allora chiama l'altro e lì nasce domani domani ma te le hanno una varie totale adesso devi farai fare infatti sono in caso scusami poi io non ci sono già ok no io ho semplicemente aggiunto il totale dei finanziamenti che da cioè la somma del totale dei finanziamenti che da l'idea diciamo di una dimensione più concreta di che cosa al di là del conteggio dei singoli progetti ecco aggiunto questo campo qui visualizza anche la somma dei finanziamenti per avere un'idea rispetto a questi progetti di quanto effettivamente contribuisca in questo caso specifico l'acquedotto piuttosto che la regione Puglia ci sono anche dei sistemi simpatici per visualizzare queste cose uno di questi contribuisca è un termine che uso impropriamente nel senso diciamo rispetto a questa mappatura di dati questi finanziamenti totali pubblici fanno capo per 158 milioni di euro all'acquedotto pugliese quindi direi che sono stati finanziati con questi fondi strutturali 158 milioni di euro di progetti del soggetto attuatore acquedotto pugliese quindi potremmo aggiungere anche il soggetto programmatorio in realtà mentre poco meno alla Puglia insomma diciamo che i dati per certi versi sono un po' anche come internet c'è sempre questo rischio serendipidi cioè tu ti infili dentro sai come entri ma non sai poi dove ti portano soprattutto quando hai a che fare con degli scienziati che si divertono con i dati perché giustamente poi gli scienziati cioè chi ha un approccio scientifico tende a diciamo sondare più campi possibili mentre io per esempio non avendo una formazione scientifica appunto ho un obiettivo specifico e poi però chiaramente ognuno approccia in ogni modo no ma sicuramente questa cosa qui il progetto finanziato può essere molto chiaramente sì è molto probabile che ci sia una situazione di questo tipo il discorso è sempre diciamo quello tu ti trovi con una serie di dati che ti possono dire tante cose ma anche cose troppo vache però esercitarsi sui dati che ci sono ti permette anche di sapere diciamo come questi fondi europei vengono in questo caso specifico come i fondi europei vengono indirizzati al tuo territorio per esempio una delle cose che ho notato io guardando questi dati è che tantissimi di questi progetti per lo meno per la Puglia sono diciamo come soggetto attuatore che è questa figura anche qui metafisica diciamo all'interno di questi progetti hanno molti comuni no? quindi su n comuni della Puglia non so quanti sono in tutto ma saranno immagino varie centinaia no? tra le 5 6 province perché c'è anche Barletta Andrea Trani come provincia ancora o è stata abolita? no tutti questi comuni probabilmente hanno ciascuno di essi il comune di Sandonaci il comune di Ortanova Mora di Bari eccetera hanno tutta una serie di progetti che sarebbe anche cioè si possono poi andare a filtrare si vedono anche qual è la distribuzione cioè diventa veramente cioè tu vedi veramente qual è la ricaduta potenziale dell'attività diciamo dei finanziamenti della progettazione europea sul territorio no? cioè qui ad esempio adesso sento entrare nel merito però qui fondamentalmente adesso si sta per chiudere diciamo siamo nella fase finale di un ciclo politico che ha avuto una sua estensione temporale abbastanza consistente no? per la regione sono due legislature ma anche per mi pare il sindaco di Bari sono due legislature no? Emiliano ora non può essere riconfermato perché è già al secondo mandato e vendola per Bari si vota l'anno prossimo mi pare adesso fra sei mesi per la regione si vota fra un anno e mezzo no? quindi siamo in una fase allora questo discorso qui che coincide temporalmente no? adesso si chiude il programma diciamo dei sette anni con le proroche eccetera però il programma dei sette anni dei finanziamenti europei si chiude proprio adesso quindi le due cose diciamo hanno potuto camminare diciamo di pari passo si può anche vedere se c'è stato un incrocio tra le due attività se la regione è stata ricettiva rispetto a questo tipo di attività se queste attività quindi in realtà sono tante le piste informative che si possono sviluppare dopodiché è anche chiaro che si può avere un atteggiamento del tipo beh questa è troppa roba come facciamo a muoverci perché c'è anche una sensazione di però se voi ci pensate bene al di là del fatto che manca poco e fra un po' ce ne andiamo tutti quanti però noi abbiamo parlato per due ore a parte la prima introduzione però per due ore abbiamo parlato interattivamente di questi dati abbiamo fatto anche un laboratorio di cittadinanza attiva in cui abbiamo discusso abbiamo fatto il possibile sperando anche di essere stati chiari e fa parte anche questo diciamo non è soltanto un discorso io non vivo più la cosa il mestiere diciamo giornalistico come lo vivevo all'inizio mi chiedo lì mi studio il fascicolo pubblico l'articolo secondo me molte di queste cose che prima era un appannaggio esclusivo dei giornalisti adesso sono diritti doveri di cittadinanza ecco cioè il cittadino partece in maniera attiva perché ha le competenze per farlo anche più di altri che magari invece prima erano eh deputati a a filtrare queste informazioni e fare questo meccanismo attraverso i dati dà molta più solidità all'attività del del della cittadinanza ad esempio banalmente l'altra volta quando sono andato a Bondero in provincia di Ferrara per un laboratorio di operricostruzione terremoto in Emilia la mappa marrone diciamo se dico mappa marrone subito ci ricordiamo ehm a certo punto eravamo in una scuola in una situazione più o meno tipo quella in cui si è trovato Alessio stamattina non so se eravate qui venticinque ventisette studenti quarto anno e allora gli mostravo questi dati avevo fatto un po' di tabelle pivò per dire quali sono i progetti finanziati dalla regione 15 miliardi di euro di danni stimati in Emilia primo finanziamento a giugno 2013 era un miliardo e mezzo quindi l'Emilia aveva sparato sto primo miliardo e mezzo sul territorio allora la domanda io ho posto a questi ragazzi tra l'altro sveglissimi ma a chi li ha dati per primi perché io cavolo cioè se io vivo in un paese per esempio Crevalcore no? Crevalcore è un paese provincia di Bologna tra Bologna e Modena che è stato totalmente devastato c'è la scuola insomma comunque ho amici che la mattina si svegliano e continuano a vedere ste macerie no? come se fosse stata la guerra no? quindi io la cosa che ho detto a loro è ma chi li hanno dati per i finanziamenti? una ragazzina 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 che faceva le scarpe una un 17enne molto diciamo sveglia 16 anni 17enne fa stata bella pivò e comincia tutto il tempo mi ha detto ma perché hanno finanziato per primi le parrocchie? cioè noi abbiamo le scuole a pezzi però i primi finanziamenti sono andati alle parrocchie 17 anni cioè che cosa allora lì veramente cominci a essi cominci ad avere un dialogo a prescindere dal fatto che uno sia d'accordo o meno non è questo è il punto però lei ha fatto questa obiezione perché risultava un certo numero di finanziamenti risultava un certo numero di progetti finanziati per le parrocchie io poi le ho fatto guardare bene i dati qua abbiamo blog wordpress da tutte le parti e bondeno vedete questo è il sito di il blog di opera ricostruzione dove viene raccontato un po' tutto quello che viene fatto vabbè vado subito al dunque comunque io le ho fatto fare questi due grafici e qui diciamo risultano 32 finanziamenti all'Arcidiocesi di Ferrara Comacchio ma quando tu clicchi vedi che effettivamente la CTO si ha dei finanziamenti in realtà quello che ha preso più finanziamenti è il consorzio di bonifica della Burana che ha preso questi 36 milioni 646 mila euro io non so quanti emiliani sappiano esattamente cosa fa il consorzio della bonifica Burana io per esempio ho fatto per 4 anni no 6 anni il giornalista mia romagna sarò un ignorante ma non l'ho ancora capito magari vado sul sito in realtà probabilmente si tratta anche di tutta una serie di attività legate diciamo all'agroalimentare ecco per sintesi però molti magari non lo sanno quando si dice invece molte volte siamo abituati anche a condividere diciamo a fare delle a dire cose sulle istituzioni che non sono sempre circostanziate anche su facebook eccetera invece qui cominci ad avere della sostanza con la quale puoi dialogare sulla quale puoi dialogare poi reti le manano nello stato vuoi che cerchiamo insieme? no no cerchiamo insieme consorzio del bonifica è una roba un po' da divina commedia come nome no ma in realtà hanno un bel sito ma sostanzialmente fanno questo sostanzialmente allora la gestione no ma lì c'è tutto un discorso comunque perché dovete considerare poi adesso non so il territorio qui come sia messo dal punto di vista dell'agroalimentare per lì bisogna considerare che c'è tutta un'enorme area che va coltivata l'acqua che deve andare in quest'area viene gestita dalle strutture come queste insomma quindi lì praticamente è come se tra le varie cose avessero dovuto di fare tutto l'impianto idrico della pianura padana diciamo eh? dici lo devo fare subito se no muore tutto capito e quindi hanno priorità probabilmente per questo tipo di motivazione poi va anche detto che in realtà la regione mia romagna non è più virtuosa perché i dati li ha pubblicati subito non in formato aperto perché ha pubblicato un enorme pdf però questi dati ci sono insomma io quel corsetto lì l'ho fatto proprio su questo argomento sì insomma comunque diciamo che è una delle anche soltanto trovarti di fronte a quel grafico lì e dire ma chi sono questi vai e te lo cerchi comunque hai fatto un piccolo passo per apprendere una cosa in più del tuo territorio quindi anche se non prendi quei dati per andare alla regione e dirgli cioè comunque è un upgrade diciamo di conoscenze direi che non dico se ci sono domande perché c'è Chiara che c'è vai no volevo chiederti a quelli sui dati che abbiamo un po' in un'altra domanda prima sì dobbiamo fare delle visualizzazioni a parte quella che abbiamo fatto se si può fare non lo so se ti viene in mente qualcosa altro allora come guardarli allora il consiglio sulle visualizzazioni questo è vero avremmo dovuto dedicarci più tempo allora io diciamo voi visualizzate i dati avete già visualizzato avete delle competenze particolari ni no forse va beh allora diciamo quel tutorialino lì di data wrapper è ottimo quello che vi avevo linkato all'inizio comunque c'è poi il link sulle slide se vi volete riprendere l'indirizzo è qui ma tutorial forse riesco a non fare comparire gli indirizzi pericolosi della mia cronologia comunque questo qui ok in questo pezzettino qui lui spiega sicuramente che tipo di grafico usare e perché ci sono alcune regole fondamentali sui grafici tipo se vuoi fare una torta quando la vuoi fare questa torta un grafico è torta la puoi fare in due condizioni prevalentemente primo quando la somma di tutti i valori dà un totale quindi quando i valori sono sommabili se non sono sommabili non ha senso secondo anche se un valore è un elemento condizionale quando questi valori non sono troppi perché se tu anche banalmente c'è una torta che ci devi fare 20 fette maniamo poco tutti quanti insomma se tu invece quindi guardate questo caso qui per esempio tramite data wrapper che è assolutamente la roba più consigliata più facile di tutti si embedda sui siti vi lascio la mail insomma ma è veramente facilissimo se vogliamo fare una torta con questi dati il primo problema che avrò è che sono troppi per fare una torta infatti data wrapper che è un oggetto intelligentissimo non mi visualizzerà tutte queste 12 righe mi visualizzerà alcuni valori e altri mi li raggrupperà fate finta che io non abbia usato questi dati però loro già mi dicono da questa cosa qui quali sono i progetti più utilizzati cioè più ricorrenti quali sono le cose più ricorrenti quindi io poi banalmente da qui mi scelgo un po' di colori c'è il gruppo di colori non so perché mi indico scusate dimenticavo che si faceva così quindi ad ogni cosa attribuisco un colore con l'attuazione culturale gli do il rosso il rinnovamento urbano l'ambiente gli darò il giallo rinnovamento urbano non lo so che gli darò banalissimo 371 gli darò questo qua ok certo colori più brutti non li potevo scegliere però neanche loro neanche hanno questo marrone però mi servono questi colori anche per darvi un impatto visivo più rapido sono cose diverse accorgitene guardali se questi dati sommati tutti insieme sono un totale io una torta la posso fare faccio un esempio banale tornando al grafico bar io così questi dati li ho abbastanza leggibili se invece di fare un grafico a barre in orizzontale utilizzassi uno strumento più standard quindi diciamo un istogramma già diventa più difficile la lettura perché sono in verticale quindi uno dei consigli che è dato da wrapper è se ne hai molti non fare neanche questo fai sempre quello orizzontale ci sono alcuni valori tipo finanziamento totale finanziamento privato che potrebbero andare insieme cioè se il finanziamento totale è 100 allora facciamo finta che non sono numeri di progetti facciamo finta che questi sono soldi euro ok quindi sto aggiungendo una colonna molto sinteticamente finanziamento tutto sto aggiungendo una colonna in cui sto dicendo per esempio facciamo finta agenda digitale gli hanno dato 24 euro più altri 50 24 come finanziamento 1 e 50 come finanziamento 2 stesso schema per tutti in questo caso i valori sono delle somme ma sono delle somme all'interno del singolo record no? cioè io posso sommare posso graficare questo discorso qui posso dire che all'agenda digitale hanno dato questi soldi qui più questi soldi qui quindi per esempio banalmente potrei usare questo che si chiama stack il totale è tutta la colonna poi lui fa automaticamente ok? è tutto molto diciamo cioè bisogna entrare anche un po' nella mentalità cioè leggerli un po' meglio questi dati rifletterci un attimo immaginare se i numeri che ci sono in una colonna si possono sommare con quelli accanto insomma non è poi tanto complesso nel senso che bisogna cercare di ridurre il numero di dati sui quali si trovano cioè filtrarli concentrarsi su un piccolo set di dati immaginarsi delle situazioni diciamo che cosa fare con quel con quel set lì in questo caso per esempio lui mi mostra che il finanziamento 1 che ci siamo inventati prima è molto più consistente per tutti rispetto al finanziamento 2 poi l'agenda digitale sappiamo che viene finanziata poco anche se ce lo siamo inventati noi stavolta comunque questa questa è la situazione e sulle il donuts cioè la ciambellina o il donuts al quale qualcuno ha dato un morso in realtà il funzionamento è simile diciamo alla torta infatti lui automaticamente capisce che quello che gli avevo detto prima qua non lo può applicare no? e mi fa vedere tutta la situazione ma riga per riga ok? anche qui posso scegliere il grafico a linee che dire il grafico a linee è uno di quelli che amo di più serie storiche se io devo dire che per esempio dai non mi torna ogni tanto si fare così per esempio io dico che anno 2012 facciamo finta che non è il finanziamento 1 il finanziamento 2 facciamo finta che in questo caso però deve essere veramente così nel senso che io indico un andamento no? facciamo anche un anno 2013 così viene più figo vediamo solo che qua come ordine di grandezza scusate un attimo e facciamo anche anno 2012 anno 2011 anno 2013 quasi finito eh? 2 ok io gli sto dicendo come sono cambiati i finanziamenti nella serie storica per questi tre indicatori qui gli metto un ah attenzione dovrebbe andare bene metto un grafico in linee un crollo totale ragazzi eh una roba proprio questo è comunque quello che lui ci dice fra l'altro chiaramente il fatto che i dati stiano nelle colonne o nelle righe per lui cambia tantissimo e se stanno nella posizione sbagliata lui si incasina tant'è che Gregor che è lo sviluppatore che ha pazzo che ha sviluppato sta roba insieme a tanti altri però è quello proprio che passa più notti su sta cosa ha inventato un pulsantino in cui gli dice girami i dati cioè se stanno così ma li metti così e se stanno così ma li metti così clicchi qua in questo caso andavano bene però se noi li avessimo messi così inizialmente vedete che noi in realtà eh eh non avremmo detto delle cose perché lui qui non ci sta dicendo come cambia negli anni ci sta facendo ci sta facendo vedere che stiamo usando impropriamente uno strumento cioè il grafico a linea che serve fare vedere come cambiano le cose banalmente nel tempo insomma una timeline fondamentalmente no tu vedi sta linea che è prevalentemente serve a quello se abbiamo messo i dati male clicchiamo su transpose e lui ci ci fa vedere insomma che c'è una crisi terribile appena finito lui adesso non ce lo fa fare però insomma dovremmo prova vabbè ti va scaricato no guardate quello che si può fare è che si può embeddare sapete che significa embeddare embeddare un video youtube embeddare eccetera vabbè insomma uguale funziona in stessa maniera ti produce un codice uno snippet diciamo c'è un codicillo l'iframe diciamo tu prendi e metti il tuo blog a meno che non sia wordpress funziona no non sia wordpress perché nei blog ostati da wordpress loro non permettono che queste cose funzionino solo per questo ecco se c'è un blog wordpress sul tuonome.it viene tranquillamente insomma molte delle cose fatte su esempio su questo qui funziona nella stessa maniera ve lo faccio vedere al volo e poi Chiara fa l'ultima domanda no no non devo fare la domanda è solo chiudere ok ecco qui chiudiamo subito dovrebbe essere questo aspetta boh da qualche parte ci sarà eccolo qua l'iframe no dove sta no qua no boh comunque è un iframe ah qui eccolo qui questo è quello che si trova su google cioè se io lo prendo e lo metto in un file di testo è un è un iframe praticamente banalmente un iframe ok per chi mi volesse insultare si vede più si lo so adesso stavo per dire per chi mi volesse insultare a seguito del no scherzi se volete che ci sentiamo diciamo successivamente eh qui ci sono i miei contatti che si dovrebbero vedere ok grazie e qui chiudiamo la lezione anche il laboratorio per chi vuole domani ci sarà un piccolo incontro in cui cercheremo in cui pubblicheremo diciamo tutte le azioni nate dal laboratorio che sarà sempre qui al CNA dalle 10 alle 18 è un evento al di fuori insomma del laboratorio dal basso ma partecipazione libera grazie a tutti e arrivederci grazie grazie a tutti